Eccoci e bentornati sul mio canale, nuova breaking news su Call of Duty World War 2 e su Call of Duty Infinite Warfare. Partiamo con il titolo della Sledgehammer Games, infatti la Software House tramite il proprio profilo Twitter ha pubblicato tre nuove immagini relative ai poster del gioco, infatti potremo vedere in successione il poster e le locantine pubblicitarie che sono apparse prima a Parigi, poi a Londra e per finire a New York City. Quindi si sta facendo veramente un grosso lavoro di marketing e pubblicitario dietro al lancio di Call of Duty World War 2, che sarà svelato come vi dicevo per quanto riguarda il comparto multiplayer alle 3 2017 nel mese di giugno, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Passiamo invece a parlare di Call of Duty Infinite Warfare perché l'Infinity World ha annunciato l'arrivo dei doppi punti party, infatti se noi giocheremo in gruppo con i nostri amici si attiveranno i doppi punti per quanto riguarda il multiplayer. Questa iniziativa già è online da ieri sera e terminerà esattamente lunedì 22 maggio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.